Nei giorni scorsi si è sollevata molta preoccupazione sui social tra le pagine in cui si riuniscono gli amanti della natura, relativamente ad alcuni alberi i cui tronchi erano stati contrassegnati da un bollino rosso. Subito gli animi si sono sollevati, gridando allo scempio, dando per scontato che quei bollini stessero ad indicare che gli alberi dovevano essere abbattuti. Si tratta dei grandi e maestosi pini in Viale Trieste, a cui tutta la popolazione è affezionata, che da decenni crescono indisturbati, ombreggiando e raffrescando uno dei più bei viali di Sottomarina. L'Associazione Amico Giardiniere ha contattato gli uffici preposti in modo da ricevere maggiori informazioni e poter eventualmente rassicurare le persone che si sono subito preoccupate, che erano pronte ad intervenire in un qualche modo per la tutela del verde, fermo restando che se un albero costituisce pericolo per le persone o per le cose, rischia se non più vitale di precipitare il suolo, questo va abbattuto, in questo caso si è fatto un processo alle intenzioni, dando per scontato che quei bollini fossero indicatori di un prossimo abbattimento, come invece non è. Stanno a contrassegnare una prossima potatura, per cui chi ora acquore gli alberi di Viale Trieste può continuare a dormire sonni tranquilli. Sottomarina.